Tanta città italiane, candidate per il 2023, che hanno conquistato il riconoscimento di comune Plastic Free. Per quest'anno, delle candidature arrivate, solo 68 sono risultate idonee. I due comuni d'Abruzzo sono stati investiti in missioni degne di merito, lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell'ente e collaborazione con Plastic Free On Loose. Requisiti questi che un comune deve possedere per essere riconosciuto Plastic Free. A tal proposito, il presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano, ha sottolineato come in questa seconda edizione celebriamo l'impegno per l'ambiente e per le future generazioni di ben 68 realtà comunali. Premiare chi è in prima linea concretamente nel creare un mondo migliore è diventato per la nostra On Loose una delle priorità. La collaborazione attiva e proattiva con le istituzioni è uno dei tasselli più cruciali per velocizzare il cambiamento positivo. Ringrazio, ha concluso De Gaetano, le amministrazioni abruzzesi per l'importanza del loro impegno per l'ambiente che abbiamo certificato dopo attenta analisi. Plastic Free sarà a loro fianco per le iniziative future legate alla sostenibilità. Porta il suo nome, collegata telefonicamente alla figlia Silvia, per l'occasione le poste hanno presentato il franco bollo dedicato al fumettista con l'annullo filatelico, il servizio di Tonino Danese. Nel lontano 23 nel Molise ho messo il pie, iniziava così la Iacostori, autoritratto che Benito Iacovitti faceva di sé usando il linguaggio che lo ha caratterizzato come il più geniale fumettista italiano e uno dei migliori a livello mondiale. In un breve fumetto appunto la sua vita, i personaggi, l'inconfondibile tratto del disegno, i celebri salamini agli angoli e lui il ritratto con il sigaro in bocca, iconico. Nacque a Termoli.